E' doppia voce Un strumento professionale iPad Non è una foto E' vero E' un po' di due 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 Teo C'è di rischio C'è di rischio C'è di rischio Ma sto video quanto ti metterà mai? E' da ieri sera che sta caricando E' ancora la fine a metà Non puoi rubare Tastierista da lì non spera Facciousalemme Dimmi Ma dimmene una Cagate Mi ha manco E' buonissima cosa che sono micrani Oggi Andrei di E' una Non lo so Ma lo so Ma è troppo Ho fatto un corso Ma è troppo Non lo so come sei bella